Salve amici del Centro Meteo Italiano, rapido miglioramento meteo in vista del weekend grazie all'espansione dell'anticiclone. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 15 marzo. Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino su tutta la penisola, con locali fenomeni sui settori alpini di confine e tra Sicilia e Calabria, maggiori schiarite sul medio e basso Adriatico. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito al nord e sul tirreno centrale, ma con tempo asciutto. Sole prevalente su Adriatico e Sud. In serata e notata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque, ma con nuvolosità anche compatta, specie al nord-est e sulle coste tirreniche centrali. Temperature minime in aumento al nord e in calo al centro-sud, massime in generale aumento ovunque. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Medi Italiano.